... Sono stufo di dover usare i freni quando corro, sono stufo di rallentare, sono stufo di far vincere gli altri. 5, 4, 3, 2, 1, via! Sono partiti! Chi ama a paura non si diverte, no, lei non sa che cosa vuol dire essere la moglie di un corridore, aver paura per il proprio uomo, vederlo rischiare ogni giorno la vita. Afton, finito! Dobbiamo vincere, valo per me, vai Carlo! Un corridore vale un altro con le macchine d'occhio, si vince a tavolino, non sulla pista. Quello che ci vuole sono dei buoni corridori, che abbiano cuore, pegato, riflessi pronti, polso fermo e reni d'acciaio. Avanti signore e signori, mancano pochi minuti allo spettacolo unico al mondo di cui potrete ammirare un antipico. Privido signori, privido! Lei vende il privido, ma lo può. Intravediamo lontano, all'inizio del rettilineo, un corridore avvicinarsi spingendo a piedi la sua motocicletta. Così. Non c'è più tempo di metterla a punta. Stasera, Tullio, noi due la portiamo in pista. Ricordi di comprare i giornali di domani mattina. In qualcuno forse leggerà che lei è un eroe. Gemini e Angliano Vieni a vicino. Grazie. Grazie.